Sera in Ostia. Nessuna offerta per muro. Eh, amen. Grazie. No, quindi fai il dritto oggi, Eustachio? Eh? Fai il dritto oggi, Eustachio? Comunque, allora io vi avverto, scusatemi, quando non c'eravate voi ho vinto tre partite in una sconfitta con tutte squadre di primo livello. Sì. Quindi, sarà bene che non rigniate contro. Ok? Cioè, io ho perso l'archievo e ho sconfitto la Juventus che è ultima, il Venezia che è ultimo e non mi ricordo. Eccolo. Ciao. Ah, c'è l'archievo? Sì, l'ho lì, stai qui. Ciao, buongiorno. Grande, nearchievo. Nearchievo, sei in autosteata, nearchievo. Ah, scusa, mi aspetto che devo cambiare il microfono. Ok. No, è un'ora, è un'ora, è un'ora, è un'ora, è un'ora, è un'ora, è un'ora per forza. No, no, è un'ora perché io alle sette devo andare. Anche meno, cinquanta minuti. Esatto. Già, io sono stan live dalle undici, eh, stamattina. Eh, che chezzi. Domani vai dalle? Domani vado, sempre dalle mattina, dalle dieci fino alle tre e poi la sera. Quindi faccio dieci e quindici. Allora, chi rendiamo disponibili? Questo lo rendiamo disponibile. Cluco, guarda. Facci sempre disponibile. Tossena ha messo malino, eh. Lo mettiamo qui. No, non ne hai altri vicini. Vabbè. Basta. Basta. Perché ora ci abbiamo tre partite in una settimana, eh, ragazzi. Se riuscissimo a gestire queste tre partite in una settimana bene, che ora una pistolese te la smettere in diretta di voi. E sto dando fiducia a Picchi, eh. Perché è un tipo simpatico. Oh, giusto. È un gran bel tipo simpatico. Allora. Ho sempre, sempre fiduto in Picchi. Hai sempre fiduto in Picchi. Dobbiamo togliere... Con il tocco di classe è il ritorno di piglio. Beh, il ritorno di piglio. Quando l'ho visto ho detto, cazzo, ma lo piglio. Me l'hanno dato subito, senza dire nulla. Sono stati gentili. Allora. Di sicuro dobbiamo cambiare ad Ekaieie. O ci mettiamo in Mauso o Galuppino. Galuppino è messo Maluccio, eh. Mettiamoci in Mauso. No, va bene così. Poi. Torario Rossa, va bene. Bon Giovanni e Tercet, secondo me, vanno bene. Eh, abbiamo fatto quattro partite. E stiamo andando bene. Bester è fortissimo. Bester è una bomba. Perché tira anche tutti i calci piazzati. Questo è un po' un calzino a sinistra che mi tira tutti i calci. Ma l'hai comprato? Ah, no. Sì, cazzo. Eh, magari. No, è un crucco, è un crucco. È un crucco, è un crucco, sì, sì. Ok. Eustachio, ma secondo te quanto migliora Bon Giovanni? Cioè, hai mai notato quanto ci mette a diventare buono? No, no. Allora, eccoci qua, la formazione e la pittoriese con Grange, Bester, Rosen, Pauly, Karyani, Ofuzu, Bon Giovanni, Tercet, Paiu, Imausso e Torregros. Dall'altra parte è una squadra, c'è Tello, Tello è forte. Per il resto. Teio? Sì, andai a Teio. Tranquillo. Ok. C'ha una ceppa di capelli. È quello della Fiorentina, mi sa. No, non è quello della Fiorentina. Sì? Quello della Fiorentina non c'ha una ceppa di capelli. Comunque uno dei giocatori più scarsi che io abbia mai visto alla Fiorentina. Teio, pazzesco. Era scarsissimo. No, questo Teio penso sia quello che era del Dempoli. Tipo un mediano da adesso. Ho fatto cinque, quindici acquisti abbiamo fatto, eh. Centrocampista con l'oro. E tutti di attraverso. Orazio non bada più a spese. Ho messo un milione e mezzo in più. Mamma mia. Oh, scusatemi, la creatività iniziale? L'obiettivo della stagione qual è? È quello di... Metà classifica, ma c'è la voce meccanica. Dove? Sì, è un po' scusatemi. Sì, adesso ho messo... Scattavi. Comunque metà classifica. Oh, com'è che abbiamo iniziato così male, ragazzi? Non sta succedendo più nulla. Domanda di più qua. Bravo! Bravo Neachio Sveri che Neachio sa. Sa che vuole di più. Vogliamo di più da questa squadra. È il trentesimo? Che inizio è? Che è stato da sto primo tempo moshume? Attenzione, Poli. Mi sarebbe ancora, tizio. Bravo. Poli la gestisce per Imauso. Imauso l'allargo. Potrebbe gestire... Dai là al mezzo. Per Terriani. Terriani non la perde mai. È bravissimo Terriani. Buon Giovanno. Ovusu. Ovusu già monito, grande. Bella l'apertura per Pio. Ovusu. 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 Ovusu la botta. Ovusu. 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 Sono in serie B. Ho fatto il primo anno dalla C alla... Dalla C alla B. Il secondo anno siamo rimasti in B e ora proviamo a lanciarci. Acquistato in presido? No, molti sono in presido. Di quei 15 ce li abbiamo acquistati solo tre. Alcuni forti li ha presi, eh? Cioè il... Il centrocampista centrale è di proprietà, giusto? Sì, sì. Tagset. Ovusu no. No, Ovusu. Ovusu no? No. Sì, sì, Ovusu sì. No, l'hai comprato. Ah, Ovusu è comprato. È vero, Ovusu è comprato. Forte, Ovusu. E anche ho comprato anche Teoriani, che è un buon tiazzino. Guardali come gestiscono la palla. Mamma mia, che tiki-taka questa pistolina. Pense se ci fosse Val di Fiori, come ti avevo consigliato. Verticolizzazioni e via. Ma che schifo Val di Fiori, dai. Con Giovanni, guarda per la tua reggossa, guarda la tua reggossa. Che rigore? Uh, no! Eh, rigore, oh! Che rigore? Che cosa ti ha fatto? No, rigore, rigore. Che rigore? Che c'era fatta vedere farà, allora? Eh, me lo chiedo anch'io. Eh, interventore. Calma. Eh? No, pocettino perché non c'è la R nel cognome. No, sicuramente non sono Sauri. Sauri, no. Dai ragazzi, dai ragazzi, siamo stati migliori di voi, loro. Non è vero, ma... Se il mausso è più, schifo, schifo, eh. Ma non è vero, ci siamo. Chiedigli di più. Hm? Sì, in effetti più sei e due, mamma mia. Sceno. Stato un po' di grinta, dai. Ma lo cambio adesso più. Le cambio tutte e due le ali. Sì, sì. No, nel cambio... Metto la Denkai Kankie. Sì, 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 sì. Hobby. Ma anche Gaetano forse può fare l'esterno. No, Gaetano no, può fare la punta. Anche... Potrei anche cambiarlo, eh. Vai, vai. Cambio anche Torre di Rossa, me la sento. Chi? Si vola. Doppio cambio al cinquantesimo. Mamma mia. Dai ragazzi. Dai ragazzi, bisogna c'è una svolta, eh. Quell'altro che hai preso, del Chievo. Non mi ricordo come si chiama. Chiariani? No, quello di colore. Ah, in Ghisca. È in tribune. È in tribune, è in tribune. No, ma com'è che non succede un Ketz? Se non è, è Mausso, la stoppa. Miavi, bella la palla lunga per trovervi a Gaetano. Gaetano è solo, c'è! C'è Gaetano! No! Gaetano è fatto schifo, Gaetano, cazzo. Ma che è? Dai, dai, calcio d'angolo. Schema. Gaetano a battere, non so perché. Vediamo chi c'è nel mezzo. C'è Mausso che svetta! E' Oson! Caputana! No! Perché è alto un metro e sessanta, Gaetano? Forse per questo, amici. Potrebbe essere per quello. Facciamo un'altra sostituzione. Bisogna sostituire. Vedete? Mausso. Vedete anche Mausso. Via tutti, oh! Devo non capirlo. Galuppone. Puntiamo tutto su Galuppone. Mamma mia! Ci traccamo tutto a munito. Domanda di più, domanda di più. Dai, alla fine ragazzi, al novantesimo! Potremmo farcela! Possiamo farcela! No, mi sei no. Sei niente. Niente ragazzi. No, fatemi vedere un'azione. Che merda! Che schifo di partita. Che schifo di partita. Che triste questa partita. 0-0 scialbissimo, cioè. Ma infatti, chi ha il voto migliore? I due portieri. Eh beh, il suo ha fatto un pagliatone a un certo punto. Su, Rino Gaetano. Bello quel colpo di testa. Chi era quello lì? Buon Giovanni. Finita dai. Finita. Eh, ragazzi. 0-0. Sì esatto. Sulla lunga scia di Conte del Warrior. Pareggiamo. Ragazzi, cioè. Sono un po' arrabbiato. Dici? Un po' arrabbiato? Beh, io gli dico che sono stati sfortunati, dai. Anche se hanno fatto cagare, in realtà. Però. Date onde. Così è. Dai, eh. Oh, ragazzi. Mi sento un po' giù, però, eh. 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 Non so, non so. Non hai, non hai. Terzi. È rimanato nel pareggio. Andiamo in conferenza, dai. Simone Colombi ha fatto una gran partita. Eh, oggi è stato forte. È un giocatore fantastico, buon Giovanni. Vabbè. Spero se sono stati veloci. Bravi. Però, bella la conferenza. Bella questa conferenza. Mi è piaciuta. Dovrebbero essere tutte così, cazzo. Bravi. Ottimo. Cittadella ultimo, diciassettesimo, eh. Beh. Diciassettesimo. Ai ai ai. Non diciamo cazzate. Stiamo, è Bologna. Sì. È Bologna, è Benevento. Bologna, Benevento e... Venezia. È Venezia. È Venezia. Ciro Sicuro. È molto bello, Ciro Sicuro. È come nome. Forte questo. Sì, sì. Usi Inziovi, c'è. Sembra forte. Sembra notevole. Dai, eh. Dobbiamo spaccare lì. Buon Giovanni. È la migliore scelta per battere punizioni. Cazzo, e c'è già. Cazzo vuole. Forse anche da destra. Ma no. Ma l'avevo cambiato, tipo. Vai su Tattica, un secondo. Andiamo al dici, in conferenza. Guarda, ci va. Sì, sì. Oh, non è che possiamo lasciare un altro Parigi, eh. Dobbiamo prendere la corsa, eh. No. Contro Cittadella bisogna vincere tra 4-0. Sì, infatti, tra 4-0. Ci crede anche Nardi. No, esatto. Se ci crede anche Nardi. Lo stato di forma merita degli elogi. No. Eh, elogiamo, elogiamo. Elisa. Elogiamo, elogiamo. Anche questo hai comprato, mi sta. Chi? Teoriani di sicuro? Ah, forse... Anche poi, anche poi. Tutti questi tra qua. Sì, questi sono i miei. Beh, è forte lui. Sì, sì, sì. Un bile forte. Forte. Poi ha anche quel bel colorito sano. Positiva, ragazzi. No, non voglio. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Stavo scherzando. Ho detto prudente? Eeeh! 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 Ma che prudente? Contro Cittadella? Eeeh... Sìì! Ma lei è schermo mister. Sì, esatto. Io mi ho chiesto, ma come andrà al campionato? Io, beh, lo vinciamo. No! No, sei, sei un po', fai schifo, Budi. Eeeh, così è andata. Cammelino, dai. Giovanni, infortunato in Bourgiovanni. Che hai fatto? PRA? Eh noi non lo mettiamo No Metti il frizzantino No Minardi O pichi Anche pichi un po' Così forse pichi più forte Pichi più forte Sicuramente Però Ah però l'atletica Ah allora no Vai con Minardi Ma potrei metterli anche tutti e due Sì Anche ravvicinati in effetti Ah sì esco e rientro dal computer Che con Tablet mi sento male Vai vai L'ossena come ho messo? C'ha un po' di cambi? Eh sto facendo Mi metterei il tessuto Secondo me è il momento di Gaetano No Gaetano no È l'unico che non vorrei mettere Io metterò dei cagli Cambi la punta No la punta Ma dovevano giocare Fra tre giorni di nuovo Contro Bologna Ne ho già cambiati tanti Però eh Ma ci sono Un po' di riposo In chissà No ma in chissà In chissà l'ho comprato In chissà lo paghi Budi lo paghi 250 Eh ho capito che lo pago Non so perché lo pago Forse c'è stato un errore Beh guarda che è forte Sì ma non mi piace Non mi sta assolutamente Capito? Quello è il problema Sì sì Chi mette in tribuna? Ci tengo a questi Non voglio metterli in tribuna Per te a Pia scusa Pia lo butto io Hai verificato L'allenamento Di cosa? Di chi? Ti visti Ok Buon Giovanni Ragazzi questa è dura eh Perché abbiamo Una formazione Molto rimaneggiata Maesano potrebbe Non finire la partita Io vorrei messo un giusto Dai 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 Siamo Siamo una formazione Un po' rimaneggiata Ma ce la possiamo fare C'hanno i Liguain Dei poveri Di Pasa E Gambino Vuole Vuole E vuole Liguain E vuole Liguain E' in piedi Fortino E' in piedi fortino? Fai ragazzi Liguain è un Reagan Sì Forza ragazzi No Mosseatemi quello che sapete fare Dai Dai Tunnel Che palle Che dice C'è le rotazioni Rotazioni Esatto Andiamo in campo a fare il nostro lavoro Rotazioni Qua c'è bisogno di 2 9 Ho appena visto il voto di Boer Control Grande Budi Quella pippa di Boer Control Quella pippa di Boer Control Mi colmi da una decina di minuti Abbiamo fatto una paetita Sì abbiamo fatto A tempo Farò 0 0 Scialbo Scialbo 0 Sì 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 E' inizio 3 a 1 Attenzione Eh ma però Però ragazzi Abbiamo una formazione Dei minchia Quindi Sì Cerchiamo di vincere Ma Vincere questo Il tempo è estrema Vai Piu Grande Piu Grande palla Lancia lungo C'è 3 di grossa lì Non c'è nessuno Nessuno Ma secondo me Comprudente Butto in via la palla Attenzione 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 No 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 Hai cambiato Piu Hai cambiato Piu Ops Fai a nulla Eh ops Non l'abbiamo fatto Ecco Scusami Piu Scusami Piu Alt F4 Cambia Scusami Piu Non volevo Non volevo Non volevo Non volevo Non volevo Piu Non è colpa tua Piu Vai Gaetano Vai Gaetano Tutto solo Tutto solo Contevo piede Te l'ho detto È solo questo È solo Galoppino È Galoppino lui È Galoppino È proprio lui Mettila Cambi Cambi Galoppino Grande cazzo Quanti soldi hai dato A mister patate Per questo acquisto Sì E intanto Chi è che l'ha schierato Scusatemi Chi è che l'ha schierato Diciamolo Calcio d'angolo Schema 3 Gaetano nel mezzo Minardo Rigore Lo dobbiamo chiedere Se è in pericolo Bravi 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 ragazzi Bel tiki taka No è bella L'argomento Per Yamas Buttala In mezzo Buttala Segna Che casino Gaetano Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Gianluca e Gaetano, grandissimo! Calma adesso! No, calmi, calmi. Ho avuto il cambio, mi sa. Tutta il taglione. No, ma che cazzo fa? No! Iguain! Perché gli ho detto calma? Appena lo vede Blackserts mi insulta. Concentrati, ragazzi, concentrati. Quando lo vedrà su YouTube, ragazzi, se vi siete piaciuto qualcosa, tutto su YouTube. Allora, che gli diciamo allo spogliatoio? Bravi, bravi, bravi. Dobbiamo evitare di rilassare. Facciamo cantare i tifosi. Ma non li ho detto a niente anche dei tifosi, lo vedi? Non si sente un cazzo Neokios, c'è la voce metallica. Non si sente davvero niente, mi dispiace. Tu lo senti Neokios quando parla? Lagga. Eh, lagga. Trova a sistemare. Come se nel microfono si staccasse. Non si sente un cazzo Neokios. Oh, io non ho cambiato niente, anche se non lo so. Vai, gammelino. Eh... No, ho fatto una sostituzione, io questo non l'accetto. Questo non l'accetto. Ecco. Mausso che... Sono fantastico. Chi levo? Io toglieri i picchi. Il buon Giovanni è a posto dei picchi. Eh, infatti. Chi è il peggiore? Lui? Sì, ha già morito. Io leverei anche Mausso che comunque non gli facciamo ancora pagare quel pallonetto. Eh, hai ragione, eh. Però non ne ho altri. Ah, c'ho Bobby. È il 49esimo. Vai così. Bravo, bravo, bravo. Mi sei piaciuto, Neokios. Ci vuole un po' di piglio. Ci vuole un po' di piglio. No, no, no. Io non accetto. Gambino, attenzione. Oh, bravo Grange. Uuuuh! Sei andata a prenderla. Cacca, vacca. Bravo Grange. Dai, oh. Ragazzi. Non possiamo pareggiare. Eravamo 2-0, porco schifo. Domando di più, domando di più. Dai, dai. Buttate il cuore oltre l'ostacolo. Poi eliminarli. Bravi, bravi, bravi. È nostro, è nostro, è nostro questo. Dai, buon Giovanni. Gestitela. Ma Hovuso non era munito. Sono abituato a vederlo munito. Hovuso è il nuovo Spinozzi. È nostro è il nuovo Spinozzi, sì. Adecanier. Attenzione. Attenzione. Guardi. L'ho messo, non ho entrato nel mezzo. Gaetano! Che vede! Che vede! C'è stato un liscio in mezzo all'aria che è clamoroso, eh. Sì. Il centrale l'hanno fatto un liscio che è roba da Oscar. È messata? Sì, guarda, 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 no? Una domanda, ma Caci è entrato nel nostro staff di preparatori? Sì, sì. L'ho mandato a vederlo. Ma nell'under! E vada! E vada! E vada! L'under 18, eh! L'under 18, sì. Bravi, ragazzi, bravi! Attenzione. Buon Giovanni. La punizione. La mette in mezzo. Vediamo chi sveta. Ancora Gaetano! È Bobby! È Bobby! È Bobby o The King! È proprio lui! Seconda rete! No, è verità. No, è Bobby, è Bobby. È Bobby o The King. Grande Bobby, grande Bobby, oh! Ma davvero si chiama Bobby? È Bobby. Pochissima stima per Bobby. Intanto già due gol ha fatto. Esatto. Infatti, l'anno scorso ci mancavano giocatori. Comunque abbiamo fatto dei cambi clamorosi, non vorrei dire. Diciamo così. Eh. In metà della squadra ci servivano l'anno scorso. E quest'anno ce l'abbiamo. Cosa? Giocatori di che tipo? Danno centimetri. Grossi. Eh, Bobby, capisci a Bobby? Dico, non è. Cazzo gli ho detto, Loda. No! Non so, abbiamo sempre golvi come dei via... Per... Medico frate. Come dei polli, cazzo. Tra tre canini. Ragazzi, se vedate le fila, se vedate le fila. Centi... Metri... 1,70 de canier, non è che si... Sto gran... Macio. No. Ragazzi. Ragazzi. Teo. Bravo, Grange. Bravo. Bravo. Mamma mia! Woo! Che tensione. Dai, passa tempo. Passa tempo. Sì, ho fatto il tiro di schifo. Dai, dai, dai. È finita, è finita il video. No, 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 no. Capetro, pesca! Vai, Biteo, pesca! È finita! Capetro! È finita! Via! Via, via, Bobby! Via, Bobby! Oh, vai, Biteo! Vai, attenzione, attenzione, potremmo partire noi! Attenzione! A sinistra, larga! Vai! Vai! Che c'è Canupino! No! Perché ti rama questo fondo! Fa che gare, Canupino! È Bobby! È la Yamuna! L'ha fatta! È la Yamuna! È eccezionale, Bobby! Pazzito! Spettacolo! Spettacolare! Bella vittoria! Oh, comunque tra tutti i gol non abbiamo visto neanche uno in rovesciato ancora! Beh! Non mi sembra... Non riescono a fare l'animazione, per cui! Comunque, grande, grande vittoria, eh! Siamo primi, eh! Ma scusate, da Juventus Under 23 in B! Andiamo alla conferenza! È salita? Nella realtà non può salire, da Juventus Under 23! I tifosi sono divertiti! Eh! Voi arrivano in C! Cioè, non come! È come se non contassi! Non posso salire! Pane! Iannesto non è in vendita! Non puoi, no! Io vi saluto, che l'acqua è troppo! Ciao, ciao! Ok, eh! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Allora! Ok, sì, sì! In B può, non in A! Ok, ok! Grazie, chat! Non ho mai apprezzato particolarmente questa persona! Non è che abbia molto da... Per farmi cambiare idea! Anzi! Finalmente Gaetano! Bravo, Rino! Bravo, Rino! L'ho schierato tripletta, eh! Mhm! Perché gli abbiamo dato fiducia! Bisogna dargli fiducia ai giocatori! E sono molto contento perché la formazione era molto, molto, molto rimaneggiata! Ciao, Gaetano! Beh, Gaetano è una buona riserva di torre grossa! Buonissimo! Chiesi, è verale! Ma infatti quest'anno la cosa secondo me importante che abbiamo sono le, le riserva! Beh, secondo me devi giocare con quello del Chievo perché è nettamente più forte! Chi? Che lo paghi anche? E vabbè, chi se ne frega no! Secondo me più forte non è non è più forte 是i! Sì, vai a vederlo in un secondo, confrontolo. Co, 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 mh? Cosa? Gatling, Gat. Ma te lo faccio lì. Dai, dai. Ma si vede proprio a occhio. Eh, lo pago? Cazzo, fai te lo. Bell'acquisto. L'ho comprato io. Chi? Se lo confronto con Gianluca Gaetano. Gianluca Gaetano è il blu. Eh, Aereo è sicuramente più forte in Ghisà, se no Gaetano è più forte. Tecnica 14, attacco 12. Vabbè, su, sì. Finalizzazione sono pari. Dribbling, controllo di pari. Cioè, sono un po', boh. Ha più fisico Bobby. Sì, Bobby, Bismarck. No, non è male Bismarck, che era detto. Non è un male, un brutto giocatore. Quando si infortunerà qualcuno, perché tanto prima o poi succede, e... Abbiamo, abbiamo. L'importante è aprire. Sì. Non come l'anno scorso, che poi si è infortunato Spinozzi e mamma mia. È stato un disastro. Eh, eh. Occhio a Bologna, eh. È del Chievo. Gallo... Era il Chievo. Alla prossima. Alla prossima. Ti Grazie a tutti